A.Z.S.P.A. non si è mai fermata nonostante l'emergenza coronavirus, lo assicura il presidente dell'azienda Paolo Reginelli che ricorda alcuni dei servizi garantiti negli ultimi mesi. Il più importante è quello per l'igiene pubblica dedicato alla raccolta domiciliare dei rifiuti previsto per chi ha risultato positivo al covid-19 o è in quarantena in modo precauzionale. Il servizio tuttora attivo riguarda mille persone. È ripartita poi l'attività interrotta all'otto marzo scorso che riguarda il verde pubblico. Il piano dei lavori viene programmato di settimana in settimana. Siamo rimasti con tutte le potature che dovevano essere fatte nel mese di marzo che non le abbiamo potute fare perché poi lì c'è un termine di legge che è il 31 marzo quindi le riprenderemo praticamente a novembre. Per quanto riguarda invece il taglio dell'erba abbiamo iniziato la settimana scorsa, tutte le settimane abbiamo in programma, abbiamo iniziato con la parte del mare, con le piste ciclabili, con ad esempio i vari giardini tipo il giardino Leopardi, con gli interquartieri e per quanto riguarda questa settimana abbiamo Torretta, abbiamo tutta la parte di Centinaroli e abbiamo altre zone che faremo di volta in volta. Il piano, spiega il Presidente, prevede interventi nelle principali zone turistiche della città fino ad arrivare mano a mano in periferia. Sicuramente siamo in una fase abbastanza pesantina per quanto riguarda gli interventi perché il fatto di non aver fatto tagli fino ai primi di maggio con le temperature che ci sono state, un po' di acqua che c'è stata, una cosa o un'altra, ha chiaramente ingigantito un po' il problema. Però ci stiamo praticamente riprendendo e quindi abbiamo in previsione che tra dieci giorni di aver tutto a regime come esattamente era a regime un anno fa. Abbiamo avuto diverse segnalazioni per i passeggi, lì avete già... Questa settimana, guarda, per i passeggi abbiamo l'intervento, questa settimana, il taglio dei passeggi, anche perché i parchi c'era questa problematica che per un po' erano chiusi, quindi era difficile anche ragionare in questi termini. Adesso con la riapertura, questa settimana... Il presidente Reginelli ha poi risposto ai tanti cittadini che stanno chiedendo di poter usufruire del servizio dedicato ai rifiuti ingombranti. Nel giro di 48 ore sono arrivate circa 200 email. È stato deciso quindi di sospendere per alcuni giorni questa modalità di prenotazione fino a che Aset non riuscirà a smaltire tutte le richieste già pervenute agli uffici. Questo riposo forzato nelle famiglie molte volte ha cagionato magari, che ne so, il rimettere a posto il garage, la cantina, quindi scoprire che ci sono delle cose che non servono poi così tanto e quindi ci aspettevamo una risposta del genere. Non con questi termini, però insomma c'è stata, quindi da una parte siamo contenti perché c'è questa mentalità comunque di non disperdere delle cose che praticamente potrebbero subire una destinazione completamente diversa e quindi seguire le norme. Ci stiamo attrezzando quindi anche su questo risolveremo il problema breve.